Chi preferite Ministro dell'Economia? Un professore sconosciuto, un carneade o Piercarlo Padoan? Perché guardate che ne va del futuro dei vostri figli, non è che è un fatto di scegli anche tu chi mandare in nomination questa settimana. Sta roba qui non è il grande fratello, non è la fattoria, non è la talpa, non è un reality, questo è il governo del paese. Allora io li prendo sul serio gli amici 5 Stelle, non vengo a dire ah beh però c'è un problema di stile istituzionale, che ci sia un problema istituzionale nel mandare una mail al Quirinale prima delle elezioni, lo vede anche un bambino. Ma lasciamo stare, facciamo finta di non considerarlo, prendiamoli sul serio. Sulla squadra vi fidate di chi in questi anni ha preso il paese che era in crisi e lo ha portato fuori dalle sabbie mobili della recessione? O volete invece affidarvi al capo segreteria tecnica del Vice Ministro che lavora col Ministro e apprezza il Ministro? Già che ci siete, scegliete il Ministro.